Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio video, oggi ragazzi abbiamo trovato un po' una cosa strana Negli amici, infatti se vedete negli online ecco qua c'è scritto gli FPG Fonno schifo Fonno schifo Fonno non ho capito per che cosa sta, perché c'è scritto FN Però comunque negli amici, praticamente è uscito lui Che negli amici qua c'è stato tutti questi inviti E mi è uscito lui che fosse FPG e ne fa uno schifo E quindi io ho detto accettiamo, inizialmente Mattia non voleva nemmeno accettare Però io ho detto accettiamo, vediamo questo che vuole fare, c'è chi è E vabbè, noi ce l'abbiamo negli amici, l'abbiamo acchiappato online e stiamo facendo il video Io dovrei invitarlo, vediamo cosa fa Sì, vediamo, invitiamolo Ok è accettato Accettato subito Accettato subito Ok facciamo Ciao Ciao Ma Chi sei? Chi sei? Hai come nome? Ok questo nome Schifo Vediamo cosa scrive Ragazzi mi raccomando se giocate a Appunto Nulls Brawl Entrate nel nostro club FPG club Siamo 60 Mancano altri 40 se volete entrare Vedi un po' che Ecco Ok Perché tu fai schifo Perché tu fai schifo Ma che vuol dire? Che cos'hai? Cosa ti ho fatto? Intanto è uscito anche Buster Mi raccomando andate a vedervi anche il video Che l'abbiamo fatto su Appunto dove provavamo Che Mattia provava tutti Brawler E skin Sto qua scrivendo Vediamo Fai video di schifo Allora questa cosa è un po' Sustiare In che senso? In che senso fai video di schifo? Aspetta scrivi una cosa Scrivi Tu non hai nemmeno Tu non hai nemmeno Nemmeno il coraggio di Di fare un canale Un canale Un canale Quindi Vediamo Il primo diciamo Dissing Abbiamo fatto Perché sinceramente Sto qua Non mi sta proprio Simpatico Vediamo che scrive Non mi sta parlando Sto ci invita Non sai nessun club Sto ancora scrivendo Se lo avessi Sono sicuro Che avrei più hype di te Più hype Bruma Lo sai Non ci posso credere Questo sbaglio pure a dire Aip C'è con la A La I Non ci credo Ragazzi Comunque Non è tanto bello Avere il Meters Non ti atteggiare Ma che vuol dire Non ti atteggiare Sconsa Bru Allora Facciamo Facciamo 1v1 Una cosa Eh Una cosa Facciamo 1v1 Aspetta malissimo Facciamo 1v1 Se vinco io Ti cambi nome E non mi Inso Solti più Facciamo così Se invece Vinci tu Puoi Tenerti il nome Il nome E Insultarmi Insultarmi Sempre Quando vuoi Ok Vabbè Ok ci sto Ok ci sto Siamo dalla squadra Siamo amichevole Ok Ci diamo qua E vediamo Lui Ok Ok Accettato Accettato Adesso 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 Cosa facciamo Facciamo una bella 1v1 Questa mappa Va bene Allora Con Buster No 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 Con Buster Ok Te ho data Ok Te ho data Forse Perché Dice Ok Metto Buster Non Protesto Vabbè Allora Io Farò il caso Adesso Mi ho leato Spinte Mettiamo qua Va bene Va bene Che ho scritto Metti in basket Metti in basket No Lasciamo Tradizionale Tradizionale Perché Stanno da un botto Di tempo Tutto Scrive Vediamo Scrive Non sei Tu il capo Non sei tu il capo Ok dai Metti pronto Muoviti Mi sembri Ok Adesso pronto Adesso pronto Vediamo chi è più forte Con questo Eternabbo Dai ragazzi Buster Sono più forte Io ad usarlo Oh C'è a parte Col colpo Puh Ma Ehm Vabbè Fermati 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 Ok Ok Riflettore L'ho stato Malissimo L'ho stato Malissimo Che ha fatto No No Ragazzi Ci ha segnato Che brutto Vedermi I nomi gli fpg Vanno schifo Vanno schifo Vanno schifo Vanno schifo Vanno schifo No 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 Dai 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 Che Napo Non lo sa Se colpisce Si toglie Lo scudo Che Napo Ma questo È Napo Proprio Dai Dai Ma questo Come ho usato Insultarci Guarda Che Napo Guarda Non ti permettere Più Di insultare Il Fpg Maddo Che cool Dai Ragazzi Siamo pure Riusciti A vincere Lo scrivo Però Non è Finita Qua Facciamone Un Altro Ok ragazzi Voglio fare un'altra Stavolta La facciamo Proprio in basket Perché Almeno Lo rendiamo Un poco Felice Mettiamo Questa Mappa Però Sei proprio Un hub Tu Sei Un hub Con El Primo Ok Quindi Pettiamo Il primo Speriamo Di vincere E si Aschili Buola Il primo Regale Mi piace Più Il Tigro Il Tigro Chi ha Scritto Aspetta Chi lo Dice Lo È Stupido Adesso Vedrà Chi è Veramente Il Più Forte Ok Dai Dai Metti Pronto Chi Metto Lamentone Che Ho già Ditto Ragazzi Tagli Tagli Oh Però Questo Si deve Muovere Mettere Nel primo Forza Muoviti Muoviti Sto Nabbo Che Sava Come Mettere Nel primo Ok Ok Primo Tanno Nabbo Guarda che Nabbo Guarda 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 che Nabbo Che si Fugge Via Stai Scappo Ok Facciamo Così Facciamo Di Questo No Ma Ho usato Il Gadget Ma Ho usato Il Gadget Prima Tagli Fetto Tutto Quello No Non ci Credo Non ci Credo Sì Stavo Iniziando A preoccupare Ok Bello Sto Gadget Che Usato Tagli 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 Sto Vincendo Su Altri Due Punti Ma quanti punti devi fare Per vincere 5 si arriva O 5 o 6 Adesso non ricordo Non ci vuole da Da tanto Da tanto Basket Noo 210 Noo Forse questo Il signore Eh si No Noo Chissà Che nabo Sei un mascalzo Non mi dica segno Ma sei un nabo Ma sei un nabo Sei un mascalzo Guarda sto nabo Guarda Crede di battere Crede di battere gli FPG Ma in realtà non è così Ci sono troppo Ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate like Per vedere altri Di questi video Ovviamente ma noi Adesso gli diciamo Che abbiamo vinto La sfida Abbiamo Vinto La sfida Vediamo che dice Vediamo Vediamo Tra l'altro L'altro Che abbiamo vinto Vabbè A parte siamo più blu Cioè siamo dei pro ragazzi Io sono distrutto Questo era proprio Un nabo Non mi chiamerai un nabo Sei un nabo E' uscito? Cioè ragazzi Io Vedete se è online Vedete se è online Io non ho parole Si è online Una ceta No penso che tipo Quando esce Fa sta cosa Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Io non ho parole Io adesso faccio di questo Aspetta Fammi vedere 1280 Ah si Non lo cancellare Aspetta Magari può essere Che in futuro Si No ragazzi Chi è il nostro haters Va cancellato Vai Addio E comunque Non sapevo nemmeno Che stessi Che stessi registrando Quindi se gliel'avessi detto Mamma Mi avrebbe screlato Mi avrebbe fatto di tutto Ci avrebbe pure regalato Da GM Adesso ragazzi Noi pubblicheremo questo video Fatelo sapere a tutti Questo FPG Fanno schifo Mi raccomando Like Iscrizione al canale Da me e Mattia E tutto Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao